Buongiorno a tutti, mi chiamo Luca De Gaetano e sono il direttore commerciale del gruppo Aquatec di FM. L'azienda nasce nel 1983 con la produzione di coperture estive, invernali e coperture tapparelle di sicurezza. Il gruppo dal partire del 2009 ha una divisione commerciale per la distribuzione a marchio di FM e siamo presenti all'interno del territorio nazionale e anche in alcuni mercati esteri per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti da noi commercializzati e dei nostri prodotti di produzione. Il quartier generale si trova a Bodio Lomnago in provincia di Varese dove abbiamo sia l'unità produttiva che un deposito e abbiamo anche due unità di logistica in Emilia Romagna nella provincia di Rimini. Attualmente quella che è la nostra filosofia è presentare dei prodotti ad alto contenuto tecnologico che rendano competitivi sia all'azienda sia ai nostri clienti nel mercato delle piscine. I key product sono sicuramente prodotti relativi all'elettrolisi e all'idrolisi salina che stiamo spingendo da parecchi anni con un progetto denominato Eco Pool Connect che permette di avere alla fine una piscina green, ecosostenibile e a risparmio energetico sia dal punto di vista dei prodotti per la filtrazione, quindi pompe a velocità variabile, filtri a cartuccia e questi sistemi elettrolisi e idrolisi salina che permettono un risparmio non solo energetico ma anche di prodotti chimici. Questa è la nostra filosofia che approcciamo per il 2023 anche per differenziarci nel mercato delle piscine e nel settore specifico sia per piscine residenziali che per piscine pubbliche.